Racconto d'arte, nuova puntata, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con la storia dell'arte. Quest'oggi parliamo di John Singer Sargent, nato a Firenze il 12 gennaio del 1856 e morto a Londra il 17 aprile del 1925. È stato un pittore statunitense e considerato uno dei ritrattisti più significativi dell'Ottocento. Infatti è considerato addirittura il ritrattista più importante dell'America della sua epoca e a cavallo del XX secolo era addirittura il ritrattista più ricercato e celebrato al mondo oltre che il più costoso. Realizzò molti ritratti di membri dell'alta società su commissione sia in Europa che negli Stati Uniti d'America e l'opera della sua vita, pensate, comprende circa 900 dipinti a olio, 2000 acquerelli e innumerevoli schizzi e disegni a carboncino. Il suo lavoro riflette anche i suoi numerosissimi viaggi perché dopo essersi formato a Parigi visse principalmente a Londra ma viaggiò in tutta l'Europa continentale, dalla Norvegia a Corfu, in Spagna, in Medio Oriente, tornando più volte anche negli Stati Uniti. Fu attivo in Francia e in Inghilterra e dipinse anche composizioni con persone religiose, scene di genere, figure, ritratti interni, paesaggi marini, anche composizioni murali a guazzo e ad acquarello. Fu anche un disegnatore e fu soprattutto vicino al movimento impressionista americano. L'opera che abbiamo scelto di approfondire quest'oggi insieme a voi è Venice the Prison, una piccola veduta in un angolo molto famoso della città lagunare italiana Venezia. È datato 1903, è un acquarello su carta che misura 25,4 x 34,3 cm e appartiene a una collezione privata. Andiamo a descrivere quella che è la scena che vedete nel quadro alle mie spalle. Vi sono alcune gondole attraccate e ferme sull'acqua del mare di fronte al Ponte dei Sospiri. Le onde sono tranquille, creano riflessi colorati sulla superficie dell'acqua mentre gli edifici uniti dal ponte riflettono quella che è l'intensa luce del sole. Venice the Prison, come abbiamo detto risale al 1903, siamo in un periodo in cui l'artista si descrive come un vero e proprio cosmopolita. Infatti disse di essere un americano nato in Italia, educato in Francia, che parlava inglese e che sembrava un tedesco e dipingeva come uno spagnolo. Lui viaggiò molto, come abbiamo detto fu spesso in Italia, recandosi spesso parecchie volte a Venezia, città alla quale era particolarmente legato e realizzò diverse vedute della laguna, una delle quali appunto rappresenta le prigioni. Quello che possiamo dire ancora di quest'opera è che appunto abbiamo detto è un acquerello su carta, non di grandissime dimensioni ma particolarmente emblematico proprio per l'utilizzo dei colori, utilizzo dei colori che come potete ben vedere è molto chiaro, luminoso. In realtà la luce è profusa per tutto il dipinto ed è particolarmente emblematica perché proprio per il suo essere cosmopolita da un punto di vista artistico riesce a racchiudere numerosissimi stili, riesce ad ispirarsi a dei soggetti che sono tipici di ispirazione per altri movimenti ma soprattutto riesce a personalizzare la sua opera d'arte, non soltanto per la tecnica pittorica che abbiamo descritto, bensì anche per l'utilizzo dei colori e per il significato che egli riesce ad attribuire ad ogni sua opera. Ecco questa è in breve l'analisi dell'opera Venice the Prison di John Singer Sargent, abbiamo detto che la traduzione è Venezia la prigione, una piccola veduta di un angolo molto famoso della città lagunare italiana in un periodo in cui lui viaggiava molto e per questo che è particolarmente emblematica perché racchiude un mix di stili che ovviamente l'artista ha preso, ha ammirato e ha messo in campo ovviamente realizzando questa splendida opera che come abbiamo già detto appartiene a una collezione privata. Siamo giunti al termine anche di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo le nostre pagine social di riferimento che sono Sicilia 24 e Spazio Notizia sia su Facebook che su Instagram. Ovviamente potete continuare a seguirci anche sul nostro canale Sicilia 242, l'unico canale, l'unica emittente siciliana presente in tutta Italia visibile in chiaro sul digitale terrestre. Grazie per la vostra attenzione, racconto d'arte torna domani. Grazie per la visione!